Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andralink e benvenuti in questa reaction al trailer di Inazuma Eleven Time, un anime creato dai fan per i fan. Prima di iniziare col video però vi esorto a fare una pagella, che appunto verrà fatta anche da me a fine video, in modo da far capire a chi di dovere quali sono i punti di forza e quali punti deboli di questo trailer per l'appunto. Ad esempio un punto debole può essere la musica, ma è solo un esempio? Io ovviamente farò la mia, quindi fatela anche voi, che la facciate sotto questo video o sotto il video originale, link in descrizione, è importante che la facciate, fatela dove vi pare, ma basta che la fate, ok? Andiamo a vedere questo trailer. Va bene E... Ah, questo è il vecchio logo però Ok Ok Salve e benvenuti al torneo del Time! Questo torneo si sfideranno 32 squadre pronte ad ottenere il primo posto e a salire sul podio calcistico mondiale! È entusiasmante! La gente è infuocata e non vede l'ora che lo spettacolo abbia inizio! Concordo pienamente! Possiamo già preannunciare che questo sarà uno show ricco di eventi incredibili! Quelle alcune mi sa che c'erano già state Il cielo pigli su di te Hai di fronte a te un vero angelo Che lo show abbia inizio! Ok, vabbè, questo è proprio matto lui Ok 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 Va bene Sembra che qui nessuno abbia voglia di perdere E tu? Le loro facce sono tutte colme di determinazione Non sarà una passeggiata Ok Ma nonostante tutto verranno fermati dal sottoscritto Perché questo torneo Lo vincerò io! Oh Bene Va bene, va bene Mi esprimerò alla fine Devo fare la pagela, no? Andiamo per ordine Partiamo dalla musica La musica ricalca molto lo stile di quella di Nazoom Eleven che abbiamo imparato a conoscere ed amare Nella prima trilogia e anche in quella del Go Sembra quasi un remix di quella È un remix però è fatta meglio effettivamente Preferisco questa a quella originale È la stessa melodia di quando scegliamo in quale parte della mappa andare Non è proprio remixata È più tipo mantenere uno stile simile a quella che già conosciamo Facendola sembrare remixata secondo me Quindi non è propriamente remixata ma lo sembra Il che non è del tutto sbagliato effettivamente Quindi abbiamo un feeling che già conosciamo E È perfetto Poi riguardiamo la grafica La grafica sinceramente non ho nulla da dire Gli sfondi sono renderizzati con Blender o Cinema 4D Non ricordo di preciso quale programma abbiamo usato Ma ragazzi basta vedere Ma partendo già appunto da queste prime schermate Si vede comunque sia che lo sfondo è renderizzato con un programma di alta qualità Non è fatto Non è disegnato a mano ecco E anche il design dei personaggi Nonostante E questo ci arriverò dopo Dicevo il design dei personaggi Vabbè è per forza quello di Nazoma Eleven I personaggi in realtà sono cresciuti Quindi ci sta assolutamente Il tratto di personaggi non è pesante È leggero Forse un po' troppo leggero Comunque sia è uno stile Alla fine dipende se ti piace o meno È una cosa soggettiva questa Però non mi dispiace ecco Non mi dispiace Mettiamola così Per quanto riguarda le animazioni Ne abbiamo davvero poche purtroppo Partiamo ovviamente Queste qui abbiamo delle immagini statiche Purtroppo abbiamo solo una carrellata che scorre Ci sta C'è anche nel classico anime di Nazoma Eleven Quindi Ma in tanti anime c'è Quindi non è solo Nazoma Eleven Quindi non posso assolutamente lamentarmi Volendola vedere proprio dall'inizio Non è proprio malaccia eh Forse l'unica cosa che mi dispiace È il braccio Allora la lunghezza del braccio Mi sembra un po' innaturale Magari aggiungerei tipo Volendo proprio esagerare Allora Per il disegno alla fine possiamo lasciar stare Perché dovevo pensarci prima Al dare giudizio ma Mi piace quindi Ma l'ho detto prima quello che pensavo Comunque sia l'animazione Ha diversi frame Non è proprio Fatta male Un braccio che si alza Non è che puoi disegnarlo in tanti modi Se devi dare una stretta di mano Ci sta tutto sommato I capelli Di Sahel Si sono mossi in una maniera un po' strana ma Allora lui Quest'animazione di destra È fichissima Molto molto bella Specialmente questo frame Quando passa la mano Che scorre veloce Danno l'effetto di velocità È davvero davvero bello L'ho visto usare davvero poche volte Nei fan anime Ed è un punto a favore Poi anche la bava no Che gli corre dalla lingua È davvero davvero bella Mi piace molto È un bel tocco Allora Ecco qui inizia un po' ad essere particolare Ora per i mid frame Chi se ne frega Che i mid frame sono fatti apposta Giusto per essere messi di E coprire l'animazione Quindi non li giudicherò più di tanto Infatti se ne andiamo a vedere Questo qui È un mid frame Come lo è? Questo Non si nota quando l'animazione è veloce Però questa animazione nel complesso Non è proprio malaccio È un po' lenta Forse è lenta Però come scena c'è Come animazione ci sta Forse con gli effetti speciali Con magari Un filtro diverso Ci sta tutta La scena che però Mi lascia un po' interdetto È questa Che manca di Azione È semplicemente Lui che dà un calcio alla palla Cioè Magari Se vi ricordate Come era anche nel gioco Lui che alza la gamba Fin dietro Si inarca Con il corpo davanti Alza la gamba E poi tira So che fare un'animazione Del genere Richiede tempo Perciò Hanno sicuramente Optato per una cosa Un pochino più veloce E ci sta Ci sta tutta Però Per il trailer Devi presentare il prodotto Devi farlo piacere a pubblico Devi invogliarlo Ad avere di più Avrei Sprecato un po' più di tempo Per questa animazione In particolare Ma Ok Lui è un po' troppo Fermo È Troppo Troppo rigido Lo vedo Però il fatto che Abbiano fatto delle belle animazioni Che facciano Roteare i personaggi Che li facciano flettere Un po' di Ecco Ecco Manca la flessibilità Nei personaggi Questo Manca Ad alcuni personaggi Dovrebbe inarcarsi Di più con la schiena O forse Si è troppo Troppo rigido con la schiena Per i miei gusti L'animazione di Tarren Nel sommato Va bene È un'animazione Molto Corta Ci sta Alla fine I capelli di Bailong In questa scena Allora 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 Ragazzi Io voglio bene a Bruno Voglio bene a tutti quelli Che hanno lavorato al progetto Ai disegnatori Però Se mi fate Tracing Allora Qui è un po' strana La postura Nella quale è messa La tipa della La tipa della Gemini Lui Lui Va bene Falco ci sta alla grande Ok Cioè lei non capisco Perché sta così Dipingimi come una Delle tue donne Aliene Mi piace Per il resto Sì Va bene Mi piace anche il fatto Che vengano accentuati I muscoli In questo caso L'ossatura Del personaggio Con le ombreggiature Ci sta Mi piace molto Forse la bocca Non mi piace Avrei forse fatto Una sfumatura Un'ombreggiatura Non mi piace Come si muove Dato che non si vede bene Perché scorre molto veloce L'immagine però Ci dà molti indizi Su chi saranno Alcuni giocatori William O comunque sia Il fratello Sono gemelli Non si riconoscono molto William O Isaac Uno dei due Che sta con la maglia Dell'autaku Quindi penso che sia William Abbiamo Anche Basil Ma È la versione grassa Mi sembra Basil E se a lui È la versione Cioè è tornato grasso Per quanto riguarda Lato storia Io so solo le squadre Che si affronteranno Ne abbiamo discusso Durante una riunione Dell'anime Però Non mi ricordo nulla Quindi Niente Essendo che la storia Non c'è Non posso dare un giudizio Anche volendo Non potrei dire nulla Perciò la tua storia Direi di non valutarlo Visto che non c'è nulla Quindi ricapitolando Musica Otto e mezzo Grafica Otto Animazioni Do un sette e mezzo Ma vorrei dare di meno Do un sette e mezzo Per motivarvi A fare Di più Quindi il totale complessivo È un otto Ok sì Il sette e mezzo Delle animazioni L'ho dato Per spronare Però Tenete conto Che è Un Che sono animazioni Fatte da persone Non professioniste Ok Questi non lavorano Tutto il giorno Agli animazioni Ci lavorano poche ore al giorno Hanno la scuola Hanno il lavoro Hanno altri impegni Non è il loro lavoro Non vengono pagati da nessuno Ok Quindi non possono Assolutamente Permettersi di Prendersi un'intera giornata Perché Andre Link Ha detto che il corpo Si deve flettere di più Ok Io l'ho detto Perché è quello che mi sentivo Di dire Voglio essere sincero Non voglio assolutamente Dire una cosa Che non è Perché gli occhi Ce li hanno tutti Poi ovviamente La bellezza Sta negli occhi Di chi guarda Ok Però un corpo Rigido Che non si flette Più di tanto Si vede Ripeto Sette e mezzo Perché voglio spronare Tutto il team A fare Di più Ok Quindi voto complessivo Otto Considerando che questo Dovrebbe essere Il primo vero lavoro Che fanno Da quello che ne so Ragazzi Vi ricordo anche voi Sotto questo video O sotto il video originale Che trovate in descrizione Pagella Dei voti Mi raccomando Siate sinceri E non dite cose Che non pensate Ok Ragazzi Per questo video è tutto Io Vi incoraggio A supportare Questo trailer Mi raccomando Andate anche Alla pagina DBM Animation E supportate Il progetto A mille Ok Noi ci vediamo ragazzi Al prossimo video Bye bye